Cari amici, followers, mentre oggi, martedì, 24 novembre 2015, iniziava il solito dolore alla nuca, che solitamente introduce la fase super assorbente e sciocca ripetizione, qui a macerata scontro di filosofie Opus Dei. C'è chi sostiene che stia nevicando e c'è chi sostiene che tutti gli umani devono avere la coda. In attesa di ritornare a casa, saluto i simpatici e coraggiosi del pianeta Terra. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.